Buongiorno a tutti innanzitutto, siccome in questi giorni, in questo mese non ho avuto mai modo di parlare, ci tenevo, prima di lasciare a voi la parola, a fare un ringraziamento al Presidente Danilo Iervolino che in questo mese estenuante direi di trattativa è riuscito a secondarmi e a cogliere il mio desiderio di venire a tutti i costi all'Ellas fin dal primo giorno e ringrazio quei tifosi della Serenitana che mi hanno supportato e mi hanno dimostrato in questi due anni il loro affetto. Chiudo dicendo che se ne sono lette tante, se ne sono sentite tante, tante cose non vere, tante cattiverie che mi hanno toccato soprattutto a livello umano perché a livello di calcio, a livello di giocatore in questo mondo siamo tutti opinabili, quindi siamo tutti pronti alle critiche, posso piacere, posso non piacere come calciatore e questo ci mancherebbe, fa parte del mio lavoro e è giusto che sia così. Però quello che mi ha toccato è stato un po' di giudizio, un po' troppo superficiali secondo me a livello umano. Detto questo, dal 10 di agosto quando io ho firmato per l'Ellas e ringrazio il Presidente Setti, il Direttore Sogliano, il Mister che mi ha accolto benissimo, i miei compagni di squadra e ringrazio già un sacco di tifosi che si sono presentati sabato a Empoli, che ci hanno sostenuto e siamo contenti di avergli regalato la prima vittoria. Sono concentrato, sono pronto a fare bene, sono onorato di essere qui, voglio giocare a lungo, spero bene soprattutto per l'Ellas e quindi dopo che vi ho rubato questi secondi sono pronto. Cominciamo pure, Gianluca Tavelin, quotidiano all'Arena, ti ho presentato io. Grazie. Beh, complimenti innanzitutto perché sei presentato subito alla grande per un attaccante e poi secondo me sei un ragazzo sveglio perché sei andato dalle due persone che contano più di tutti al Verona, cioè da Perilli e da Berardi, hai nominato Sogliano, il Mister, lo senti ma comunque hai capito subito come gira il fumo. No, diciamo che ho nominato le persone che mi hanno voluto fortemente qui, questo per me è una cosa importante. Se ci hai fatto a caso ho nominato anche subito l'allenatore, i tifosi, anche la squadra perché come ho detto ogni volta che si arriva in un ambiente nuovo comunque vuoi o non vuoi per qualsiasi giocatore c'è un periodo di ambientamento. Io mi reputo un ragazzo che sta bene in tutti i gruppi, nel senso mi piace stare in compagnia, sono sempre allegro, sono sempre solare, cerco sempre di essere d'aiuto insomma a chi mi chiede qualcosa e ho visto che, come dici tu nel caso di Simone e Alessandro se non sbaglio nomi, sono stati insieme a Magnani, a Milan, che conosco già, ma insomma a Lorenzo, a tutti, a tutti i miei compagni sono stati delle persone che mi hanno accolto veramente bene fin dai primi istanti e questo devo dire non è mai da dare per scontato perché comunque siamo tutti esseri umani e quando arriva una persona nuova ci sta magari un po' anche, non dico a estragnarlo, però a farsi magari un attimino lasciare quel tempo per conoscersi. Invece, forse anche perché il tempo non c'era, la partita era talmente vicino che bisognava accelerare tutto e quindi sono molto contento di come i tifosi, di come il club e soprattutto i miei compagni che saranno le persone con la quale passerò la maggior parte del mio tempo quest'anno, mi hanno accolto così. Ecco, io sono assolutamente a completa disposizione loro e se posso dare una mano benvenga. Ecco, questo è l'ambiente ideale, ci sono anche altri ambienti ideali, però quello di Verona è un ambiente ideale, si è rilanciato anche uno come Giovanni Simeone qui al Verona e come si è rilanciato, quindi anche in quest'ottica è stata la tua scelta quella di venire al Verona e poi ti chiedo, ti senti più prima punta o seconda punta? Nel senso che ti piace partecipare alla manovra, ai grandi fondamentali, quindi vieni anche nella linea di metà campo a giocare. Raccontaci un po' di come ti senti tu, grazie. Allora, la scelta di Verona è stata una scelta molto facile, sicuramente non sono io la persona adatta che deve presentare questa piazza, questa società e diciamo questo palcoscenico. Appena mi è stato fatto il nome dell'Ellas è stata la mia priorità, nel senso che è stato un mese, quello di luglio, dove come voi magari saprete c'è stata una trattativa veramente lunga, quasi allo sfinimento e il mio pensiero e il mio unico obiettivo era quello di arrivare qua il più velocemente possibile per mettermi a disposizione e comunque iniziare quello che poi sarà questo percorso che ci accompagnerà. Per quanto riguarda l'aspetto tattico e tecnico, se ti devo rispondere io, io mi reputo una seconda punta, nel senso che mi piace giocare con un altro attaccante vicino, mi piace stare in mezzo al traffico, in mezzo al campo, nella zona centrale, ma penso che il calcio ormai vada sempre più in una direzione dove i tempi, lo spazio, l'occupazione degli spazi facciano la differenza, quindi se devo risponderti mi piace giocare con un altro attaccante vicino, sicuramente, mi piace fare gol, è la cosa che mi piace di più di tutti, però mi piace giocare a pallone, mi piace avere la palla tra i piedi, mi piace venire incontro senza ovviamente mai perdere di vista l'obiettivo che è quello di fare gol. So che sono passati tanti attaccanti molto molto forti, mi piacerebbe ricalcare le loro orme e vediamo cosa succederà. Ciao, Davide Cailotto, Tellarena, benvenuto, complimenti per il debutto, meglio di così non poteva andare. Mi racconti non solo questo mese estenuante, ma ho l'impressione che siano stati più mesi perché Sogliano ci parlava di te già a gennaio, se non sbaglio è da un po' che avevi il progetto di venire qui a Verona. Ma guarda, sapete anche voi come sono le dinamiche di mercato, no? Quindi a gennaio dello scorso anno c'era stato insomma qualcosa, poi, che non si è mai approfondito per le situazioni, comunque, per altri tipi di situazioni. Come ho risposto prima, ero concentrato sul finire il campionato scorso, quindi la mia testa era lì. Quando poi il campionato si è concluso, sono stato in vacanza, sono stato con la mia famiglia e il mio procuratore mi ha detto che c'era la possibilità di venire insomma al Verona e questa possibilità era una possibilità concreta perché il direttore, il presidente, l'allenatore penso di poter dire che comunque hanno fatto secondo me tanto e mi è arrivato molto la loro voglia di portarmi qui e per me questo è una cosa che conta molto perché non solo nel calcio ma comunque nella vita in generale stare in un posto dove sei apprezzato, dove sei voluto dove comunque sai che la gente che lavora con te ti vuole a tutti i costi penso che possa incidere. Ho bisogno di questo, ho bisogno di sentirmi vivo, di stare con persone come mi hanno dimostrato di volermi e sicuramente io devo tanto loro e devo soprattutto in campo ripagare questa loro fiducia. Sei giovane ma hai già cambiato tante squadre, non sei più un ragazzino, ti chiedo se avresti voglia di fermarti un po' qua a Verona perché hai cambiato appunto tanti club, insomma potrebbe essere veramente la tua ribalta e poi una curiosità, cosa ti ha raccontato Giurice per dirti dai vieni qui a Verona. Allora ti rispondo a questa, nel senso che con Milan ho un rapporto oltre che personale ovviamente creato dal fatto che abbiamo passato un'altra esperienza insieme, siamo rimasti legati ma ho un'affinità che direi che più che tecnica è quasi mentale in campo perché forse anche dal trascorso che abbiamo avuto mi sento proprio legato a lui particolarmente oltre che come persona ma come giocatore, se vogliamo entrare nel gergo, mi trovo proprio bene a livello di campo, riusciamo a capirci insomma veramente in un secondo e Milan non mi ha detto niente di quello che magari già sapevo, comunque come ho detto prima l'Ellas è una piazza che è una piazza storica del nostro calcio, non devo sicuramente scoprirlo adesso e ovviamente anche il fatto che ci fosse lui ha inciso nel senso che come ho detto prima è un compagno di reparto con cui mi trovo bene e con cui mi sarebbe piaciuto rigiocare. Per quanto riguarda il primo aspetto è forse la cosa che sento mancare di più, mi piacerebbe trovare un posto dove rimanere a lungo, un posto dove poter comunque essere d'aiuto anche i ragazzi che arriveranno, che ci saranno, dove essere un punto di riferimento e sicuramente penso che stare tanti anni in una stessa squadra possa anche aiutare a livello di ambientamento o comunque a livello di tutte cose che poi ritrovi in campo perché alla fine è tutto focalizzato lì e è tutto lì che determina, quindi sicuramente mi piacerebbe trovare diciamo una base dove collocarmi e dove fare tanti anni insomma insieme. Grazie a te. Ciao, ben arrivato, Matteo Fontana Corriere di Verona, l'esperienza che ti trovi da affrontare con il Verona è quella di un campionato che sarà di lotta, questo dice, almeno che sono le attese e quanto lotta sicuramente te ne intendi visto che parlavi di Milan-Duric e avete fatto quella grande impresa con la Salernitana insieme. Il Verona viene da un'impresa analoga, miracolosa come la salvezza della passata stagione di qualche mese fa, che cosa vuol dire, come ci si presenta questo tipo di obiettivo, di impegno, cosa si deve dare di più ancora alla luce poi di un campionato, beh siamo appena ad agosto ma si è visto che i punti li fanno già tutti, li ha fatti Verona a Empoli, Lecce ha ribaltato la Lazio, la Salernitana ha fermato la Roma, quindi sarà una battaglia sportiva e qual è lo spirito con cui ti approcci a questa che è una sfida che conosci già bene? Penso sicuramente che devo ancora migliorare, devo crescere, devo fare le mie esperienze ma comunque sono in giro da tanto perché a 16 anni subito sono voluto andare a giocare e a formarmi, quindi vengo da campionati dove nella lotta mi piaceva starci, ovviamente è sempre preferibile starci il meno possibile, però fa parte comunque di un percorso, di un campionato, sicuramente dobbiamo salvarci, sicuramente dobbiamo battagliare su ogni campo e penso che però l'abbiamo già dimostrato sabato, anche se come dici tu sono le prime partite, le prime uscite, quindi va bene, però i punti iniziano a pesare fin dalla prima giornata, quindi valgono tre all'inizio come valgono tre alla fine e posso permettermi di dire che era uno scontro diretto, nel senso comunque due squadre che possono avere lo stesso obiettivo e abbiamo dato una prova di forza, comunque dal campo ho avuto sensazioni ottime anche negli ultimi 10-15 minuti dove magari abbiamo sofferto un pochettino di più ma ci sta, in casa loro ci hanno messo là e nella lotta mi piace stare, mi piace viverci, mi piace come hai detto tu dopo che ho avuto l'esperienza anche a Salerno con Milan di veramente quando la partita arrivava verso la fine o quando i palloni pesavano, insomma mi piace avere responsabilità, sicuramente non sono un ragazzo che si tira indietro, questo di certo, sappiamo che sarà un campionato duro, sappiamo che ogni partita ha la sua storia, sappiamo che ci sarà da battagliare, da dare filo da torcere a qualsiasi squadra e questa però deve essere una nostra forza sicuramente. C'è così un ritorno statistico, c'è una maglia di un giocatore che ha segnato la storia recente e non solo del Verona, che è Luca Tonic, l'ultima vittoria del Verona sul campo, ce n'è stata una poi a tavolino ma quella non la consideriamo, conta per le statistiche, però è un altro discorso, con il Milan ormai sono passati una decina a decina d'anni, però è giusto per dire che parlavi prima, una domanda del collega Gianluca Tavellin, di questa linea di attaccanti del Verona che da Toni, Pazzini, Simeone, in tempi più vicini, quindi anche questo è un esempio da prendere naturalmente dal punto di vista tuo. Sicuramente più che un bel esempio è una bella responsabilità nel senso che sono passati giocatori più forti di me sicuramente che hanno fatto tanti gol, hanno fatto tante cose non solo penso per il Verona ma per il calcio italiano in generale e ho avuto la fortuna di conoscere personalmente uno di questi nel senso che con Gianpaolo Pazzini ho un rapporto posso dire di amicizia, comunque ci sentiamo spesso, l'ho sentito anche dopo il gol di Empoli e sarei banale a dire che sono tutti esempi da seguire nel senso che è troppo facile con le parole fare questi riferimenti e dire queste cose, quello che voglio fare è cercare almeno per quanto io possa farlo di ricalcare le cose che questi grandi attaccanti hanno fatto, come dicevo prima, per il Verona e per il calcio italiano. Quindi sicuramente è una bella responsabilità ma è un bello stimolo, la vedo sotto questo punto di vista e poi se hanno qualche consiglio da darmi io ovviamente sono pronto ad ascoltarli a braccio aperte. Ciao Federico, qui Fabio Ridolfi per TG Giallo Blu. Ti volevo chiedere, si è visto secondo me già dalla prima partita nonostante qualche lacuna ancora la squadra ce l'abbia però la mano un po' già dell'allenatore è una personalità anche forte rispetto all'anno scorso e che cosa ti ha impressionato di più di Mister Baroni anche in questi pochi giorni che l'hai conosciuto diciamo e se tra i tuoi obiettivi ci sia quello di arrivare in doppia cifra ovviamente il Mister non lo conoscevo di persona e lo conoscevo per quanto ha fatto negli anni passati ovviamente i risultati che ha ottenuto sono sotto gli occhi di tutti, mi trasmette grande serenità, grande tranquillità grande, come posso dire, grande bontà a livello umano, mi sembra proprio una persona per bene poi ovviamente di campo ho poco da insegnargli se non niente, anzi è lui che spero possa insegnare molte cose a me perché voglio migliorare, voglio crescere, voglio imparare anzi approfitto per ringraziarlo visto che ho letto e ho sentito la sua conferenza stampa prima dell'Ascoli ha espresso pareri comunque positivi nei miei confronti quindi lo ringrazio e sicuramente da parte mia c'è tutta la disponibilità e la voglia di lavorare. Obiettivi sono di gruppo, obiettivi sono di salvarsi il prima possibile, obiettivi sono di fare bene e poi ovviamente se devo pormi un obiettivo penso che qualsiasi attaccante voglia e speria di arrivare in doppia cifra quindi vorrebbe dire che si è fatto bene a livello individuale ma quello che più mi importa sono, come nel caso di sabato che i miei gol possano aiutare ad arrivare a dei punti che sappiamo per noi essere vitali quindi ecco mi piace fare gol, mi piace pormi obiettivi, spero di arrivare in doppia cifra ma spero che i gol che faccio servano al Verona e alla squadra per arrivare a traguardi che sono molto più importanti dei miei personali